L'ultimo turno dell'eccellenza pugliese decide ufficialmente i quattro accoppiamenti playoff tra i due gironi. Quello della Puglia settentrionale si conclude anche con un avvicendamento in vetta. Al primo posto non c'è più il Manfredonia, secondo al fotofinish, ma il Barletta, che vince lo scontro diretto a Canosa con un rocambolesco 3-2 e scavalca i sipontini in vetta. Protagonisti varsi da una parte e trotta dall'altra, il primo con una tripletta e il secondo con una doppietta, ma anche con un rigore sbagliato al novantesimo, su cui Lovettio si esalta e mette la firma con una parata a terra fondamentale. Siamo stati in una partita sofferente che quasi alla fine la pareggiavamo con due mezzi tiri in porta e tre gol, mentre noi abbiamo avuto tante di quelle occasioni che non vanno sprecate. Comunque è stata una gran bella vittoria. Di fronte avevamo la squadra più forte del campionato, ha dimostrato anche oggi il proprio valore, però onore e merito ai ragazzi che si era soggiocata fino alla fine. Non abbiamo messo il pullman come pensavate. Abbiamo giocato con tre attaccanti dall'inizio, abbiamo provato a fare gioco, a colpire sulla profondità il Barletta. Ci siamo riusciti a tratti, siamo stati inesperti nei momenti cruciali della partita. I biancorossi affronteranno il Corato nella semifinale playoff di domenica prossima. Impresa da Neroverdi a Bari contro il Mola, estromesso dagli spareggi dopo un 0-0 nervosissimo, che ai punti avrebbe anche premiato gli ospiti guidati da Scaringella. Il Manfredonia infine affronterà in casa il Trinitapoli, già qualificato per la classifica a Vulsa, nonostante le ultime due domeniche di riposo. Negli altri match della domenica vince il Vieste sulla Vigortrani per 4-1, mentre il Real City si impone 5-2 sul campo di Aluccibiceglie. Girone B che non cambia dopo l'ultima giornata. L'Otranto batte 2-0 la Deghi, si conferma in vetta all'aggruppamento e se la vedrà con l'Ugento quarto in classifica, capace di consolidare il suo piazzamento grazie al 2-0 contro il Racale. Nell'altra sfida play-off, il Matino, che ha riposato nel weekend, sarà ospite del Martina, che supera 4-2 il Massafra e chiude il campionato al secondo posto. Per la squadra di Pizzuli da segnalare il ritorno di Antonio Pignataro, doppietta dopo l'infortunio e nuova freccia nell'arco del tecnico Bianco Celeste. Il torneo si chiude con la vittoria del Gallipoli per 4-1 sul campo del Grottaglie, mentre finisce 1-1 la sfida tra Sava e Maglie. Semifinali play-off in programma domenica 13 giugno, finale di ogni girone il 20 giugno, entrambe in gara secca in casa della miglior classificata e al meglio dei 120 minuti. Spareggio per la Serie D, infine, previsto per domenica 27 giugno in campo neutro, ancora da individuare.